Ciao, mi chiamo Gabriella Tolli e sono vent'anni che dipingo. Incuriosita dal mondo degli NFT, cercavo costantemente su web delle informazioni, ma in giro c'era tanta disinformazione. Finalmente però mi sono imbattuta nella Academy NFT University. Già solo dalle prime lezioni di Luca mi si è aperto un mondo sugli sbagli, gli errori che facevo, i programmi che cercavo di portare avanti, ma sempre molto difficili. Posso però confermare che il mio rinnovato entusiasmo si è nuovamente acceso e quindi sto trovando interesse anche con i contatti che ho e che avrò all'estero, continuerò ad avere all'estero. Quindi nel momento che ho conosciuto Luca Verr, devo dire che ho trovato un mondo nuovo da scoprire e pertanto credo che il mio giudizio sia veramente positivo.